Iscriviti al canale per non perdere altre notizie sul mondo del gossip. Il primo giugno, Angela Celentano, la piccola scomparsa a soli tre anni sul Monte Faito il 10 agosto 1996, ha festeggiato il suo trentesimo compleanno. In occasione di questa data speciale, la famiglia ha condiviso una nuova immagine di Angela, frutto di un'età progressiva che la mostra ormai adulta, lontana dalla famiglia da ben 27 anni. L'avvocato Luigi Ferrandino ha dichiarato che, nonostante il tempo trascorso, la pista turca rimane aperta. Questa teoria ha preso vita grazie alla testimonianza di Vincenza Trentinella, la quale ha affermato che un prelato di nome Don Augusto le aveva rivelato una confessione in cui una donna dichiarava che Angela Celentano era viva. Trentinella ha raccontato di aver viaggiato fino in Turchia per scoprire la verità e ha fornito agli investigatori una fotografia della presunta Angela, insieme al suo resoconto. Secondo quanto dichiarato, Angela Celentano vivrebbe su un isolotto con un uomo che ritiene suo padre. Il nome del presunto finto padre fornito da Trentinella è Faffi B. Quest'ultimo aveva annotato un numero di telefono su un bigliettino, che è ora nelle mani degli investigatori. La speranza è che questa volta si possa giungere alla verità tanto attesa. Resta solo da attendere con ansia.